Campania sempre più verso la zona russa. È quasi certa, alla luce dei dati dell'ultima settimana, la decisione che prenderà il Ministro della Salute, Roberto Speranza, il prossimo venerdì. Come ogni fine settimana, la cabina e regia per il monitoraggio si riunirà per valutare i dati epidemiologici di ogni regione e decidere sulle misure da adottare in conseguenza. Dal 24 febbraio a oggi la campania è sempre stata sopra i 2.000 positivi al giorno, con una preoccupante proporzione tra positivi e tamponi. Tra i dati in peggioramento in campania anche l'occupazione dei posti letto negli ospedali, in particolare l'aumento delle terapie intensive saliti oggi a 137. Aumenta anche il numero dei sintomatici, cambiamenti che già avevano portato nei giorni scorsi il governatore Vincenzo De Luca a chiudere nuovamente tutte le scuole in presenza e che ora potrebbe portare la regione in zona rossa, con una escalation molto rapida, visto che solo due settimane fa la regione era in zona gialla.